esiste il tablet perfetto una domanda a cui è veramente impossibile rispondere però questo lenovo p11 pro di seconda generazione devo dire che non ha grossi difetti vi dico infatti partiamo subito dalle caratteristiche display oled 12 pollici 2k 2500 errotti per 1300 errotti 8 gigabyte di memoria ram 256 gigabyte di memoria interna tra l'altro espandibile tramite micro sd e con la possibilità anche di avere la versione 5g con però la sim separata dalla micro sd quindi veramente completissimo un tablet leggero che ha aggiornamenti garantiti due anni di aggiornamenti esce con android 12 ma arriverà a 13 arriverà anche a 14 3 anni di pace sicurezza tra l'altro sono aggiornati proprio a gennaio il mese in cui registro questo video e inoltre un display oled a 120 hertz non manca poi la osb type c che ha anche uscita video e modalità desktop quindi realmente tutto quello che volete lo potete fare perché potete appunto connetterlo con un monitor esterno o addirittura potete utilizzare alcuni prodotti lenovo come portatili che possono sfruttare questo schermo come secondo display tramite una connessione che si chiama lenovo freestyle e che vi permette sotto la stessa rete di condividere appunto lo schermo funzionalità che ho provato ma sono riuscito a far funzionare quindi diciamo è limitata ad alcuni portatili di lenovo vibrazione ovviamente interessante luminosità del display ottima batteria che non ha nessun problema e anche una pennina posteriore con un sistema ovviamente di ricarica a induzione con magnete che si attacca può essere anche appoggiata nella parte superiore ma qui non si ricarica perché riduzione solo nella cover posteriore che però funziona davvero bene insomma per tutto quello che vi ho detto ci si aspetterebbe un prezzo non dico importante però dai sono intorno ai 500 ore invece sul sito di nuovo in questo momento quando sono registrando la recensione viene proposto tutto quello che vi ho detto a 349 euro quindi se non è il tablet perfetto ci si avvicina anche perché in realtà lenovo vende separatamente anche una tastierina che si attacca tramite poco pin qui sotto e che quindi vi permette di avere veramente un prodotto che in qualche modo potrebbe sostituire diciamo in alcune operazioni comunque il portatino ve lo potete portare indietro è ovviamente molto più leggero molto più sottile lenovo poi personalizza android e lo fa in maniera molto interessante perché abbiamo l'interfaccia classica dei tablet quindi con la possibilità di utilizzare tutte le funzionalità avanzate che android ci offre in questo lato 12 ma anche una pagina multimediale accessibile tramite uno swipe tutto a sinistra dove sono raccolti tutti i contenuti dai vari programmi di streaming youtube netflix prime video disney plus ma anche social come tik tok youtube kids e anche l'accesso a google tv ovviamente tutte queste funzionalità sono dipendono in pratica dagli account che avete all'interno del vostro tablet ma di fatto è un feed molto interessante che vi permette di accedere alla parte multimediale senza dover passare dalle applicazioni singole ovviamente una volta che cliccate un contenuto vi apre quell'applicazione però è un hub che va a raccogliere anche i giochi in questo caso oppure i libri o anche la musica si va a interfacciare con il play store ma anche con applicazioni come spotify per i podcast google podcast e comunque tutti i programmi che avete installato all'interno del vostro tablet l'interfaccia come vedete reagisce bene e ovviamente ha una ottimizzazione tablet per quanto riguarda alcune applicazioni sappiamo già che comunque android su tablet deve ancora fare un po di strada rispetto ad ipad l'ottimizzazione dei programmi è diversa però in linea di massima si usa tutto senza particolari problemi anche con divisioni avanzate dell'interfaccia in particolar modo però ci sono alcune caratteristiche che permettono anche per esempio di utilizzare la porta type c per connettere non solo monitor esterni quindi utilizzare di fatto una modalità desktop ma anche di utilizzare la ethernet quindi se avete un hub in pratica usb type c potete connettere questo hub con la ethernet e quindi usare una connessione cablata può essere utile in alcune aziende dove magari non c'è il wifi per una protezione dei dati no e quindi entrare un intranet senza utilizzare appunto il wifi ci sono poi una serie di opzioni di visualizzazione che permettono anche di modificare in maniera fine la luminosità la luce blu o ancora tutta la dimensione del display e è interessante anche vedere come all'interno delle impostazioni ci sia una modalità produttiva questa è una caratteristica che abbiamo visto anche sul tablet precedente di Lenovo ma che in pratica vi permette di trasformare il tablet in una sorta di portatile con le finestre flottanti è in pratica la versione Dex, la modalità Dex di Samsung che forse per prima o comunque quasi per prima ha portato sui tablet in versione Lenovo in pratica si aprono tutti i programmi in finestra flottante e queste possono essere gestite facilmente con anche una riorganizzazione rapida degli spazi e allo stesso tempo avete una barra qua in basso che vi permette di andare ad aprire tutte le applicazioni che sono state avviate fino a quel momento e che possono essere richiamate molto facilmente il tutto tra l'altro è realmente molto intuitivo perché oltre a tutte queste azioni che si possono fare tramite le impostazioni queste le ritroviamo all'interno dei toggle quindi se vogliamo togliere la modalità produttiva in cui siamo adesso basta andare a cliccare sul toggle e vedete che in un attimo siamo ritornati nell'interfaccia classica per cui se adesso io apro Chrome questo sarà normalmente aperto come se fosse l'interfaccia tablet questo è più comodo soprattutto se si usa il dispositivo con una sola mano in verticale si va quindi a sfruttare l'interfaccia del tablet con una modalità molto più intuitiva rispetto a una modalità desktop che chiaramente non aiuta come vedete io sto utilizzando la pennina e in questo caso la pennetta ha dei software che consentono di disegnare, di prendere appunti ma anche ovviamente di editare PDF e quindi di firmare in questo caso vi faccio vedere anche la funzionalità Ready for Assistance che permette di proiettare o meglio di visualizzare l'interfaccia dello smartphone direttamente sul tablet è una caratteristica che abbiamo già visto in particolare sulla recensione del Motorola del Razor 2022 ma che può essere appunto comoda con la pennina ci sono alcune opzioni qui vedete laterali con un menu a tendina che vi permette di andare a creare tutta una serie di note, di disegni e di andare anche a fare delle screenshot e andare a ritagliare e disegnare all'interno dell'interfaccia c'è questo iconcino qua che richiama il tutto e voi potete poi andare anche a fare per esempio uno zoom molto rapido per interfacciarvi appunto con il tablet può essere utile soprattutto durante la proiezione, durante alcune operazioni per esempio potete fare uno screenshot in questo modo andarlo a condividere o andarlo a modificare ulteriormente con dei colori quindi io faccio clicca qui e poi lo vado a condividere facilmente con tutti quelli che sono i software all'interno del tablet la pennetta ha 4096 punti di pressione per cui è un dispositivo Wacom e non ci sono veramente appunti da fare se non il fatto è che senza la cover, senza la custodia come vedete in questo momento la perdete no? perché comunque se attacca magneticamente è abbastanza robusta ma non da impedirvi in una borsa di perderla il difetto diciamo se vogliamo chiamarlo così è che senza la cover questa parte posteriore che è molto carina esteticamente ha un bel design ha una scarsissima oleofubicità perché come vedete impronte tantissime ma si graffia anche molto facilmente quindi mi raccomando una coverina ovviamente c'è anche la fotocamera serve per interfacciarvi con magari alcune applicazioni che permettono di scanalizzare QR code per immagazzinare i dati, fare foto al volo ma sicuramente non è una fotocamera che vi permette di fare scatti memorabili però come avete visto è molto veloce, scatta in un attimo e si ottiene il risultato diciamo sufficiente per quello che può essere la fotocamera di un tablet ovviamente è presente anche un multitasking classico di Android per cui si può andare all'interno dell'interfaccia multitasking e dividere lo schermo in più porzioni adesso prendo per esempio YouTube e posso affiancare le due finestre molto molto facilmente quindi per esempio andarmi a vedere il video mentre mi vado a leggere la recensione sul sito e in questo modo ho due finestre molto comode che mi permettono di affiancare due contenuti con estrema facilità per quanto riguarda l'audio ovviamente abbiamo un tablet che grazie agli altoparlanti ha un ottimo audio ha un altoparlante da questo lato, in realtà sono due e altri due da questo lato permettono di avere un audio immersivo con un volume come avete sentito alto ve lo faccio risentire e soprattutto nella riproduzione multimediale vedete che comunque lo schermo è veramente bello perché non ha nessun problema di visualizzazione da qualunque lato essendo OLED e quindi ad alto per flash rate come detto e quindi insomma davvero piacevole un prodotto quindi che sposa la produttività, la multimedialità con un hardware che è calzato bene rispetto al posizionamento di prezzo e che ovviamente può essere anche utilizzato banalmente con un mouse perché comunque Android permette anche di gestire il puntatore a schermo e in modalità appunto di uscita video con un monitor potrebbe insomma essere utile in alcuni casi maggiore informazioni e dettagli li trovate qua in descrizione devo dire insomma se cercate un tablet economico o comunque di fascia media perché poi 349 euro comunque parlare di economico forse è un po' esagerato però questa potrebbe essere un'opzione da tenere in considerazione visto che comunque gli aggiornamenti sono stati garantiti da Lenovo in maniera ufficiale un saluto a tutti da Niccolò